bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi che siamo obbligati a terra da queste ultime giornate d'inverno che non mi permettono di fare tutto quello che mi sono segnato di fare non vedo l'ora che la stagione venga un pochino dalla mia parte andiamo ad analizzare qua in studio con l'ausilio di questi bellissimi pennarelli che mi sono appena arrivati spero che funzionino perché non li ho nemmeno provati e l'ausilio chiaramente anche della sua lavagnetta incorporata andremo a parlare un pochino di quello che è l'orientamento delle piste perché perché penso possa essere un argomento interessante capire un pochino come si danno i numeri alle piste e perché si dà quel determinato numero alle piste ma dunque facciamo un passo indietro così probabilmente riuscirete a vedere bene la lavagnetta io prendo subito senza indugio questo bellissimo pennarello e faccio questa cosa ragazzi scrive male ma scrive e faccio questa cosa vi piace molto bene visto che qualcuno potrebbe anche dire ma che cosa hai pistolato ci scrivo che questa è una pista va bene ecco così ecco così siete sicuri che non ci siano dubbi anche se sembra più un non lo so un geroglifico egizio comunque morale della favola alla domanda classica quante piste sono questa questa che ho disegnato quante piste sono normalmente uno direbbe ma cavolo gili sei sei diventato matto e marco scusami è questa è una pista ecco in realtà in realtà no sono due piste ed è qui continuerai a dire bene perfetto marco si è completamente bevuto il cervello invece no perché sono due perché questa pista che può essere in erba in asfalto quello che vuoi può essere presa in questa direzione o può essere presa in questa direzione quindi abbiamo una pista in questa direzione e una seconda pista in quest'altra direzione bene con questo video è insomma con questo video tutto vi ho spiegato come funzionano le piste arrivederci no dai parte di scherzi non è semplicemente così facile il discorso nel senso benissimo abbiamo capito che su questa superficie possiamo identificare due piste no una e una due se voi guardate gli aeroporti quelli quelli grandi quelli belli quelli che hanno la pista in asfalto gli aeroporti principali tante volte noteremo che in testata pista diciamo quindi qui all'inizio del della pista vi è un numero ok quindi per esempio qui potrebbe essere adesso provo 109 e qui aspetta che lo faccio così perché con il 27 sarebbe più complicato e qui magari 27 ok quindi significa che questa pista è la 27 ok questa che viene in qua è la pista 27 questa è la pista 09 cos'altro dire possiamo dire un'altra cosa il numero che viene dato alla pista non è inventato perché questa è la pista 27 perché questa è la pista 09 tutto il gioco viene fatto diciamo sulla bussola noi sappiamo che i punti cardinali sono nord sud est io lo faccio w perché per l'inglese comunque ovest ok poi di parli di inglese che l'inglese non lo mastico comunque vabbè nord sud est ovest vengono anche nominati questi punti cardinali come diciamo numeri se noi prendiamo questo tondo e quindi un angolo giro di 360 gradi noi abbiamo che est è uguale a 0 9 0 ovest è 270 nord è 0 e sud è 180 ci siamo no 0 90 gradi 180 gradi 270 gradi si torna a 0 molto bene a seconda di come la pista è orientata nei punti cardinali noi daremo il numero della pista in questo caso vedete che la pista l'avevo disegnata così orizzontale quindi facciamo finta che questa nostra bussola la nostra pista è orientata così voi capite bene cos'è che capite che questa è la pista 909 questa è la pista 27 no se se non sono completamente scemo e il disegno è fatto così questa è la 0 9 la 27 allora uno dice ma scusa marco ma fammi capire e perché tu qui hai scritto 27 e qua 09 ti sei sbagliato l'hai girato al contrario no no perché l'orientamento della pista non prende il numero vedete che è speculare non prende il numero diciamo dell'orientamento secondo la bussola vista appunto in terza persona ma prende l'orientamento in base a io che cosa leggo sulla bussola in aeroplano cioè fatemi vi spiego meglio quando io sono col mio aeroplano qua ok e sto andando in questa direzione sulla bussola che cosa leggo 90 gradi perché chiaramente io sto andando in là no e la bussola mi segna che sto andando verso est 090 quindi se io fossi col mio aeroplano qua aspettate che provo a fare un aeroplano più bello però vi piace non assomiglia per niente un aeroplano comunque se io sono qui e sto andando in là sto andando verso est la bussola mi indica che sto andando ad est quindi la pista viene chiamata 09 perché guarda io che vado in giro in volo guarda verso est al contrario quando io giro da questa parte guardo verso ovest e quindi diventa pista 27 ok ci viene presa praticamente il numero della pista in base a quello che io leggo sulla bussola questo è comodo ragazzi perché perché chiaramente io se mi dicono che devo atterrare per pista 09 è più intuitivo perché basta che io metta tra virgolette a 09 la mia bussola e io so che la pista dovrebbe essere orientata in quella direzione ok è molto più semplice devo fare meno calcoli mentali meno meno 180 gradi eccetera eccetera invece è molto semplice pista 27 perfetto allora io so che quando sarò con la bussola che mi indica 270 gradi vuol dire che sono allineato almeno come direzione alla pista molto bene è chiaro che se la mia pista fosse orientata per esempio così varrebbe lo stesso discorso no ok nord sud chiaramente abbiamo capito che questa è la pista 180 e questa è la pista cioè scusatemi che cagata scusatemi la pista 18 volevo proprio arrivare anche quello la pista 18 e questa è la pista 00 perché ho detto che cagate ho cancellato perché perché si omette l'ultimo numero ok quindi diventa pista 09 pista 27 pista 18 ok funziona così si omette l'ultimo numero non si mettono tutti tanto vero che uno mi potrebbe dire benissimo marco ho capito il concetto ma se la mia pista anziché essere orientata a nord est ovest quello che vuoi è orientata che so io così nello spazio è orientata in questo modo che orientamento a va bene magari diciamo che ha un orientamento nella bussola all'incirca cerco di replicare lo stesso angolo circa fatto così no ci siamo più o meno provate a indovinare qualche punteggio avevo in disegno tecnico alle superiori ci state andando vicini pista 23 quella che va in qua pista 0 5 quella che va in qua ok benissimo se anziché 0 5 0 la pista fosse visto che non si usa l'ultimo numero fosse orientata 0 5 2 e quindi e quindi questa anziché 230 sarebbe 232 giusto esatto che numero avrò di orientamento pista sul sul sulla pista rimarebbe uguale appunto proprio perché si omette l'ultimo numero quindi lo 0 5 2 il 2 non si non si legge ok il 232 il 2 non si legge c'è l'ultimo numero non viene letto rimarrebbe sempre pista 0 5 2 3 è chiaro che se anziché 0 5 2 stessimo parlando di un 0 5 8 ok chiaramente questa pista anziché 0 5 si chiamerebbe 0 6 cioè si va in semplificazione al numero più vicino al numero al numero pieno più vicino ok questo diciamo è il modo con cui si danno i numeri alle piste comunque insomma avete capito all'incirca il meccanismo dell'orientamento delle piste almeno cerco spero di esserci riuscito a farvi un una carrellata molto velocemente del perché intanto le piste sono due anche quando credi che sia una sola e il modo con cui si decide di dare il numero alle piste il video è molto breve è finito qua non c'è niente di più non parleremo di circuiti di traffico di sottovento di base perché altrimenti diventerebbe anche troppo lungo però mi piaceva insomma visto che sono costretto a terra e non posso ancora fare tutto quello che ho in mente di fare per questa stagione estiva comunque darvi una piccola pillola per quanto riguarda contenuto aeronautico ragazzi io vi auguro tante belle cose ci vediamo ad un prossimo video mi raccomando se non lo avete fatto e se vi piacciono questi contenuti prendete in serie considerazione la possibilità di iscrivervi tanto non costa nulla è gratis e vi dà la possibilità comunque di ricevere gli aggiornamenti del canale man mano che escono nuovi video nuovi contenuti nuove poste nuove interviste vi ricordo di fare un giro chiaramente su tutti i miei social quindi facebook instagram youtube e iscrivervi al gruppo telegram pilotando bene ragazzi con questo veramente è tutto io vi do appuntamento a un prossimo giro e tante belle cose grazie a tutti